Ciao a tutti ragazzi, sono qui per recensirvi il mio nuovo acquisto, arrivato oggi con il corriere GLS, arrivato poco fa con GLS. Eccolo qua, ora facciamo anche lo spacchettamento. Comprato Freebay dai Tactical Store Freebay. Eccovi qua, eccovi che cosa mi sto appena per recensire, eccovi qua, eccovi qua, questi sono gli occhiali, gli occhiali a rete della V-Sport, modello Hexagon, della V-Sport, vedete, occhiali a rete della V-Sport, sono i EX-M74BK, occhiali a rete, il costo di questi occhiali sono di, per i secondi dello sconto, sono un po' più grandi questi occhiali, degli occhialoni piuttosto, sono dei bui occhialoni. Eccolo qua, questi sono degli occhiali a rete della Hexagon, gli hexagoni questi qui sono dei bei occhialoni regolabili, vedete, sono tutti in gomma, c'è questa, sono con la rete metallica, vedete, sono dei bei occhialoni, vedete, belli grandi, si indossano così, sono molto avvolgenti, vedete, rete metallica, retina metallica, vedete, fa un po' effetto ombre, fa un po' effetto oscuro, rete metallica, con questi non abbiamo il problema dell'appannamento, vedete, e sono un poco, sono flessibili questi occhiali, eh, sono degli occhiali a rete, vedete, io vi consiglio più questa trama qua, perché i forellini sono più piccoli, eh, quando si scheggiano le palline, perché gli altri, io vi consiglio tra quelli là o questi qua, io vi consiglio questi qua con questa trama più come questa, perché i forellini sono più piccoli e quando si scheggiano non entrano negli occhi le scheggiano le palline, gli altri sono leggermente un po' più farati, questi sono il top, questi sono dei grandi occhialoni, vedete, guardate un po' quando sono belli, si mettono così, questi sono dei bei occhialoni, vedete, questi, ah, eh, sono tutto in go, sono di gomma questi occhiali da altre, allora, facciamo una bella accoppiata, per esempio, allora, questi occhiali qua, più questa maschera, più la maschera della Lone Star Tactical, la Spec Ops Sierra Plus Mask della Lone Star Tactical, che ovviamente è il paragrafo, metto questo paragrafo che mi è arrivato lunedì, più questi occhiali, e il gioco è fatto, questi occhialoni qua, e il gioco è fatto, ben protetto, e non c'è appannamento, perché appunto, perché sono a rete, eccoli qua, bella accoppiata, questi occhiali a rete, e più, eh, la maschera della Lone Star Tactical, guardate un po', vi faccio pure una foto, guardate un po', tutto ben protetto, ovviamente gli occhi, il naso, la bocca, ben protetto, a me, tranne questo, tranne la fronte, molto protetto, sono cose molto protetto, questo è il mio setup che mi piace di più, occhiali a rete, più, eh, più, la maschera della Lone Star Tactical, e il gioco è fatto, eh sì, guardate un po', una bella accoppiata, bella accoppiata, la Spec Ops Sierra della Lone Star Tactical, e la Spec Ops Sierra Plus della Lone Star Tactical, e gli occhiali a rete della V Sport, una bella accoppiata, una bella accoppiata, bella, 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 possiamo solo abbassare la protezione, per poter bere, e poi rimpristinarla così, tenere per molte ore questi occhiali a rete, e più la maschera della Lone Star Tactical, non crea problemi, a tenere, va bene ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo, guardate un po', bella accoppiata, con questi occhialoni a rete, e più questa maschera, a me mi piacciono di più le maschere, i balacalava, le maschere di protezione integrate, su un balacalava, perché sono più comode, c'è per esempio, la Dai 4, che è una maschera completa, che è proprio comoda, perché c'è la parte in gomma, che non dà fastidio al puntamento, questa praticamente è molto comoda, però c'è da dire che, la maschera della Lone Star Tactical, la maschera integrata su un balacalava, della Lone Star Tactical, costa sui 23, costa all'incirca 35 euro, se li mettono, se li metterebbero in medie, in Germania, costerebbe sui circa 35 euro, questa maschera, 35, io l'ho pagata, questa è una limite di edition, che ho pagato 27 sterline, in circa quasi, sono 40, questi in, nella, in tempo li metteranno, anche in vendita in Germania, eccoli qua, molto bella, questa accoppiata, questa bella accoppiata, è molto bella, vedete, pertanto, visto un po', togliamoci adesso, guardate un po', qua ci sono, tutti, qua ci sta la gomma, c'è una gomma che è più comoda, vedete, sono comodi, si occhialiano tutti, hanno una montatura in gomma, e la rete metallica, va bene ragazzi, questi erano gli occhiali, della V Sport, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, alla prossima, ciao a tutti,